Condizioni di tempo in cambiamento sulla nostra regione con l'arrivo di correnti umide e sciroccali che diverranno progressivamente più intense nei prossimi giorni. Per la giornata di sabato ci aspettiamo un cielo in prevenenza coperto, con piogge deboli, intermittenti sulla costa, moderate ad abbondanti sulla pianura, anche intense sulla fascia prealpina e alpina della regione, saranno possibili anche dei locali temporali. Sulla costa scirocco moderato. Per quanto riguarda la giornata di domenica, ulteriore incremento del flusso porterà uno scirocco sostenuto sulla costa, scirocco che si sentirà anche in pianura. Le piogge saranno abbondanti, molto intense sulla zona montana, anche qua con la possibilità di qualche temporale. Continua ad esserci pioggia intensa anche nella giornata di lunedì, soprattutto nella sera e nella notte tra lunedì e martedì, accompagnate da scirocco forte, con probabili raffiche anche oltre i 100 km orari e possibili mareggiate. Il tempo poi con martedì dovrebbe un pochettino migliorare, avremo ancora instabilità con rovesci residui, però anche già delle schiarite, con vento da sud ovest, libeccio moderato sulla costa. Buon fine settimana a tutti!